Lunedì 20 novembre chi entrerà in una delle 89 farmacie veronesi aderenti all'iniziativa in farmacia per i bambini organizzata dalla Fondazione Francesca Rava avrà l'opportunità di donare farmaci pediatrici da banco e non solo che saranno utilizzati per assistere i bambini in difficoltà nel territorio veronese. L'iniziativa è stata presentata nella sede di Federpharma e vede coinvolte anche le farmacie comunali dell'Agec. Un'iniziativa molto importante che vede le farmacie come l'associazione Rava al centro di questa giornata che è appunto il 20 novembre. I cittadini veronesi possono entrare in una delle farmacie che hanno dato la loro disponibilità, acquistare o un farmaco senza obbligo di ricetta o un qualsiasi prodotto, pensiamo anche a un succhietto, pensiamo a una crema per un bambino, lasciarla ai volontari che sono presenti in farmacia e direttamente, proprio a chilometro zero, si ha la donazione dalla farmacia, da chi ha acquistato questo prodotto, direttamente all'ente che ne ha fatto richiesta perché ci sono bambini che ne hanno necessità. Il numero di farmacie partecipanti nel veronese è molto elevato. Sì, ancora una volta Verona ha dato testimonianza di quello che è la grande solidarietà che gode da sempre. Sono 88 le farmacie che hanno dato la loro disponibilità. Ricordiamo che le farmacie per aderire devono contribuire in modo economico al progetto stesso. 88 sono circa un 30% rispetto alle farmacie sul territorio, quando la media italiana è sotto il 10%. Citando l'anno scorso, quanto le farmacie hanno sostenuto concretamente l'iniziativa? Sono parecchi decine di migliaia di euro quanto le farmacie hanno riversato al progetto Rava, quindi alla fondazione Rava, come d'altra parte succede quando ci sono altre iniziative di questo tipo, penso al Banco Farmaceutico. Questo è assolutamente necessario, è fondamentale, siamo orgogliosi di partecipare a questo contributo. A questo punto però sono i cittadini che devono fare la loro parte. Quest'iniziativa, patrocinata anche da Regione Veneto e Comune di Verona, si avverrà della collaborazione di un centinaio di volontari che avranno il compito di spiegarne ai clienti delle farmacie scopi e modalità. Nella scorsa edizione la raccolta veronese ha portato ad oltre 6.600 prodotti, pari al 45% di quanto raccolto in tutto il Veneto.